La morte di Piero Terracina, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio nazista di Auschwitz, testimone instancabile per il Presidente della Repubblica Mattarella, Chiara Prato e poi Marco Sabene. Deportato da Roma appena 15enne con tutta la famiglia, è stato l'unico a uscirne vivo con quel numero A5506 tatuato sull'avabbraccio sinistro. C'è anche lui in queste immagini sbiadite, filmate dagli americani arrivati a liberare Auschwitz. C'è anche lui in queste immagini sbiadite, filmate dagli americani arrivati a liberare Auschwitz. C'è anche lui in queste immagini sbiadite, filmate dagli americani arrivati a liberare Auschwitz. C'è anche lui in queste immagini, filmate dagli americani arrivati a liberare Auschwitz. C'è anche lui in queste immagini, filmate dagli americani arrivati a liberare Auschwitz. C'è anche lui in queste immagini.